Ciao ragazzi bentornati sul canale, un saluto dal vostro Alessandro, benvenuti in questo nuovo video per voi appassionati di smartwatch cloni, lui è DT8 Mini il nuovo clone di Apple Watch 8 da 41 mm con una buona autonomia un bel display ma soprattutto è realizzato davvero alla perfezione assomiglia tanto al mio Apple Watch SE, quest'antracite è davvero ben fatta e soprattutto va anche a telefonare, quindi dal resto come tutti i cloni che abbiamo visto in passato ma prima però vi devo dire subito che va a costare sotto i 30 euro e quindi non mi resta altro che ringraziare l'azienda per la collaborazione per l'invio di questo sampling test e noi ci vediamo dopo la sigla con DT8 Mini Iniziamo la recensione, come sempre partiamo dalla confezione di vinita, l'abbiamo già vista nell'unboxing guardate qui è totalmente rosa ma anche per questa colorazione nera disponibile anche in colorazione silver, in colorazione rosa, applicazione Wii R Pro all'interno abbiamo già visto che è presente tutta la manualistica, alcune specifiche guardate è davvero ben fatta, molto molto simile all'originale stiamo andando avanti e stiamo facendo sempre le cose sempre meglio basetta di ricarica wireless, magnetica, è presente un led per la ricarica, porta USB A andiamo a vedere subito questo smartwatch, guardate come è ben fatto sono rimasto sorpreso dalla colorazione, è davvero molto 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 simile su questa parte troviamo l'altoparlante di sistema sulla parte opposta, come tutti i cloni che abbiamo recensito è presente la digital crown, funzionante, il primo microfono qui abbiamo il pulsantino di accensione e spegnimento sulla parte posteriore troviamo qui i pulsantini per il blocco del cinturino un cinturino in silicone abbastanza morbido da 20 mm la casa sulla parte posteriore sembra in vetro ma è realizzata in policarbonato è presente tutta la sensoristica a partire dalla frequenza cardiaca ossigeno nel sangue, pressione sanguigna, il sonno e sulla parte frontale troviamo un pannello che non è piccolissimo perché lo smartwatch in per sé si è un 41 mm x 35 x 10 mm di spessore con un peso che si aggira intorno solamente ai 30 grammi una batteria da 230 mAh un pannello in HD da 1,8 pollici occupa praticamente quasi tutta la superficie davvero molto molto bene con uno swipe dall'alto verso il basso abbiamo sempre tutti i nostri toggle rapidi una luminosità abbastanza buona sotto la luce diretta del sole qui ci avvisa che andiamo a consumare più batteria guardate un attimino qui troviamo un leddino il leddino che sta a significare che sono presenti delle notifiche e qui ne approfitto per mostrarvi che con uno swipe da sinistra verso destra abbiamo l'accesso alla finestrella che ci dà la possibilità di attivare l'assistente vocale visualizzare la procedura e batteria la nostra attività fisica i nostri messaggi le nostre notifiche ma qui andiamo a vedere anche tutte le ultime attività svolte abbiamo il lettore musicale abbiamo anche tutte le misurazioni un meglio il resoconto parziale di quello che sta monitorando lo smartwatch possiamo anche andare ad attivare e disattivare la funzionalità chiamate una volta che abbiamo associato lo smartwatch lui andrà in automatico ad attivare le chiamate purtroppo oggi non posso farvi ascoltare la telefonata perché abbiamo tutti gli operatori che non funzionano e quindi non è possibile effettuare e ricevere chiamate ma solamente utilizzare wifi quindi per questa volta passi ma vi assicuro che l'ho utilizzato e le chiamate si sentono sempre bene su questa categoria di cloni possiamo utilizzare l'altoparlante anche per ascoltare tranquillamente la nostra musica il volume è abbastanza alto Digital Crown che è funzionante e ci dà la possibilità di andare ad intercambiare le watch face possiamo anche interagire su alcune all'interno vedete qui andando a cliccare vado subito ad effettuare una misurazione del battito cliccando qui andiamo sul report giornaliere possiamo scorrere con la Digital Crown per entrare sul nostro report basterà uno swipe da destra verso sinistra qui vedete tutte le informazioni avanti troviamo la misurazione del battito e qui vi dico che siamo nella norma è sempre un clone non va a effettuare misurazioni fake ha un buon sensore che diciamo lavora benino non è precisissimo ovviamente ma comunque siamo al 90% abbastanza buono qui ovviamente ci dice sempre di indossarlo misurazione dell'ossigeno telefono non connesso in questo caso per attivare l'assistente vocale con uno swipe dal basso verso un alto qui abbiamo il classico menu stile Apple funziona molto bene refresh rate 60 Hz all'interno delle impostazioni possiamo andare a intercambiare la lingua è presente anche l'italiano quindi nessun problema abbiamo una certificazione IP68 possiamo lavarlo immergerlo ma solamente per poco tempo possiamo anche fare la doccia nessun problema connessione molto stabile bluetooth 5.0 e qui possiamo anche andare ad intercambiare l'all zone display tempo di accensione schermo possiamo settare la vibrazione possiamo anche decidere quale suoneria utilizzare per chiamate messaggi o notifiche andando a cliccare solamente il pulsantino che è anche il pulsantino di recensione di spingimento andremo sul task manager o meglio tutte le attività che abbiamo svolto con lo smartwatch e lui a bordo ha un processore che abbiamo già visto su diversi cloni è realizzato da Mediatek è un RTL8762DK abbiamo la possibilità di avere 11 stili diversi di menu che abbiamo già visto su tanti altri cloni lui ha la possibilità di offrirci più di 500 watch face e più di 100 modalità sportive quindi davvero bene per questo watch vi devo andare a far vedere l'applicazione un'applicazione che abbiamo già visto su tutti i cloni di DT Number One e ve la faccio vedere nuovamente un'applicazione molto molto semplice intuitiva e troviamo subito i riquadri che ci vanno ad indicare tutto il report compreso di attività sportive calorie e distanza percorsa ma quello che comunque ce lo fa apprezzare l'applicazione dopo questo aggiornamento è un po' più precisa la sincronizzazione è migliore vi dico anche che il sonno viene monitorato molto molto bene ho dormito poco stanotte c'è davvero molto caldo ma a prescindere da questo lui si accorge anche quando siamo svegli e in più vi faccio vedere qui presente il ciclo mestruale ma la cosa che interessa tanto soprattutto agli sportivi è che qui abbiamo le tabelle per diverse attività sportive o meglio le più di 100 attività sportive al chiuso all'aperto su dispositivo troviamo il nostro smartwatch connesso possiamo andare ad intercambiare le innumerevoli watch face possiamo anche personalizzarla possiamo scattare una foto pro memoria chiamate notifica app io ovviamente le ho attivate tutte funziona davvero sempre alla perfezione in ultimo possiamo andare ad attivare la chiamata bluetooth pro memoria di bere acqua versione software non sono arrivati aggiornamenti lui è già aggiornato e qui abbiamo il nostro account con tutte le nostre personalizzazioni lui si va a collegare anche a apple health pensate un po' come è ben fatto questo smartwatch che va a costare solamente 26 euro su aliexpress noi ci vediamo per i saluti finali infine il prezzo io ve l'ho già detto per uno smartwatch con questa scheda tecnica con queste caratteristiche beh ne abbiamo visto tanti ma lui è uno dei migliori ve lo posso assicurare testato al 100% lui è forse il migliore il top clone dell'apple watch serie 8 da 41 mm vi lascio il link qui sotto in descrizione per l'acquisto date un'occhiata sempre alla pagina offerte tecn non solo così magari potete trovare qualche altra offerta ancora più vantaggiosa per questo smartwatch che a questo prezzo è praticamente regalato ringrazio l'azienda per la collaborazione per l'invio di questo sample in test ringrazio come sempre a voi tutti per il vostro tempo per il vostro supporto lasciate un bel like qui sotto un commentino ma soprattutto non dimenticatevi di iscrivervi al canale attivare la campanella così da non perdere tutte le prossime recensioni condividete con i vostri amici e parenti e noi ci vediamo ad un prossimo video e noi ci vediamo